sì allora oggi un piccolo video su caramo e iuve merda allora non è successo proprio niente è che tutti si stiano un po scatenando su questa cosa quando su instagram si vede benissimo che caramo sta leggendo i messaggi e il nome di un utente che si conosce quasi tutti quelli che siamo un video è un signore che si chiama iuve merda allora io vorrei un po sgonfiare sta cosa perché tutti i youtuber giuventini si sono scagliati contro caramo anche giornalisti quasi da impazzire che poco intelligente che fazioso che indescrivibile che caramo si è attaccato perché è una cosa che non sta nel cielo e in terra che sia penalizzato una cosa che non sta nel cielo e in terra ragazzi è vero che iuve merda non si deve dire che se no siete attaccati ragazzi una buona giornata forse inter io sto con caramo vi auguro una bellissima giornata arrivederci